Dottor, dottor, c'è un problema. Mi dico, signore. Il bambino mi vomita in continuazione. Ma no, signore, cosa dovete dare davvero al bambino? No, dottor, ci ho dato il vino. Signora, al bambino non si dà il vino, al bambino si dà il latte. Sì, dottor, sopra la cotta ce l'avevo a mettere un latte.